Musica Bella a tutti ragazzi Qui è Luxolo e oggi ci ritroviamo Su Resident Evil 7 Eravamo arrivati alla parte in cui Mia doveva scappare dalla vecchia Allora, no questa era Cavolo E da quella parte non dovevo andare Cavolo Oddio Merda No Ma porca Porca di quella Hai fallito eh, grazie Mannaggia Oh cavolo In seguimento, trovo gli oggetti Dietro a cui nasconderti per evitare Ah ok, mi devo nascondere quindi Mannaggia Sta vecchia bacucca Allora ma mi nascondo qua dietro Vaffanculo Ok È entrata? Se n'è andata? Oh cavolo Quella sta là Oddio È entrata? Ok A posto Ok Mamma mia Dio dove devo andare mo? Porca di quella Porca 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 Che cosa è sta cosa? Ah Dove devo andare Cavolo Mannaggia Dove devo andare? Non lo so Eh, qui sta la raccorta differenziata Ma l'ho preso quell'oggetto? E che cavolo serve sta cosa? Annaggia Eh, eh Ma è possibile No, no, no Non venire qui Oh cazzo Cazzo No 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 Ok È andata di là È andata di là quindi Io dove devo andare? Eh, ma forse di là devo andare Dall'altra parte No Eh, muovine qua, sicuro O rientra No Ti darò impasto ai miei piccoli E fertilizzerò il giardino Con ciò che arresta Ah, stai zitta E' andata Ti offriamo ospitalità Ti offriamo i nostri cuori Eh, chi si Ah, devo andare qua Qua sotto Devo scendere? No Le scale? No C'è qualche cosa qua Devo Dove devo andare? Buttati in acqua Fa qualcosa Ah, devo mettere Eh Ah, ecco Ci sono qua Sì 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 Quasi Quasi No No, dall'altra parte Bravo Eh, così Oh Oh Eh, che cavolo Oh Eh, dai Ah, ok Vai, vai Vai, vai Che questa Rompe sempre i coglioni Questa non sta qua dentro Eh Dove sta? Piano Con calma Piano Se no Qua cade che accade tutto Capace che accade Calma e sangue freddo Calma Cazzo Tu 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 Tutto ciò che devi fare È accettare Il suo casco di dono Che vuole questa no? No, 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 no 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 no. Sì sì. No addio. No addio. Sì sì. Cazzo. Ma che cavolo Questa vecchia di merda Ma guarda sta stronza Vaffanculo Dove devo andare? Scendi chi se ne frega Via 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 Cos'è sta cosa? Chi sono? Beh vabbè E mo? E tu dove credi di andare? Buongiorno Vai 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 Tutto molto interessante Very interesting E adesso? What we do now? Nato video? E' finito il video immagino Pronto? Sì? Ehm Sì Sì Tutto a posto? Eccoci Eccoci qua Che ti hanno fatto mia? E che ne facci? Ah Basta la cassetta Che hanno rotto il cazzo Tiè c'è qualcosa da mangiare Qua vino Bovina C'è un champagne C'è un po' di roba Dai Che ci sta? Oh Si è comparsa Che è successo? Che ci sta qua? Ah Allora Tempesta Nell'ultima notte Arrivò una Blah 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 Nukas La data via Sta a posto Ancora vecchia Sì Ma poi Da Nukas E' stata la tempesta Dove è arrivato il mio? Ah C'è una nave Quindi Questo libro Sicuramente c'è qualcosa Immagino Davo a che parte? No Girando No Niente Nulla Ok Vabbè Fa niente Pensavo ci fosse qualcosa Polvere da sparo Ottimo Credo che possa servire a creare Polvere da sparo Erba Va bene Tengo due comunque di questi Giocano anche a freccette qua Che è sto bronzo di riace qua Sposta quel delinquente E il sermete Che abbiamo preso Dal salone All'area di trattamento Moneta antica Ma che sono sti cosi? Eeeh Io da dove ero arrivato adesso Non ricordo C'è Questa No Non è una scala E qua Che devo fare? Eeeh Servirebbe Una chiave Ma Tengo niente Cazzo Il fucile Cavolo Mi serve Sta chiave Ma dove sta Eeeh Buonanotte Eeeh Che ne so Dove sta Ma Sta chiave Eeeh Apri qua Ma 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 Qua Qua è bloccato Qua Ah Questo era Il bagno Si C'era Andato Qua Eh Però C'era Una cosa Nel cesso Ah Ecco Ah Ecco Qua Scultura Di legno Ah Io so Sì Eh Vabbè Mi ero perso Questa Scultura Oddio Buongiorno Buongiorno Ma Ma che cazzo Ma dove devo andare Porca Cazzo Eh Si Buonanotte Eh Abbastanza Senti Prendere la pistola Revelyn Eh Ma che cazzo Eh Tanto Divertente Eccolo Qua Metti Metti Il coso Non c'è tempo Per queste cose Ma come non c'è tempo Ma che cavolo Vabbè Dove sta quello stronzo Dove sta lo stronzo Vieni Vieni Pesso di merda Ma non c'è una cazzo Di Eh Vieni Ma non c'è niente Mi servirebbe Qualche chiave Qualche cosa E ora mi rispunta Ma che cavolo Qua torno indietro Dove devo andare Eh Ottieni il fucile Eh Esci dalla casa Trova l'entrata Trova l'entrata Di aree di trattamento Che vuoi Ah Vaffanculo 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 Devo prendere il fucile Non me ne fotte proprio Vai prendi sto fucile Cazzo Eh Non c'è tempo Per queste cose Eh Vabbè Cavolo Eh Eh Va Quel paese Però Eh Vabbè Sì 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 Eh Ho capito Però Questo c'è Questo che rompe Il cazzo Eh Non muore mai Annaggia Eh Che cazzo Ah E vai Eh Ha rotto il cazzo Fino a certo Eh Vaffanculo Ha una certa Ha rotto il cazzo Eh Eh Che cazzo Vaffanculo De Metto il cazzo La Scultura di legno Eee Aspetta Queste sono le Aspetta No 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 Ok Così Però un po' più Eh Un po' più di qua No Più così Eh Così Ok Ok Skyhunter Il cacciatore Del cielo Chi l'ha costruita? Eh Boh Eh ma qua mi sa Mi servono un sacco Di munizioni Mi servono Mamma mia Mi dovrei anche curare Dear Hunter Ho qua Ricarica Eh No Prendi Il coltellino Unissimo Pistola Ottimo Ottimo Lo dicevo Fluido Chimico Ok Va benissimo Munizioni Vanno bene Erba C'è qualche C'è qualche Altra cosa Qua Aspetta Che cos'è Psicosi Stimolanti Cavolo Questo è buono Un po' di Drughe Prendi Le munizioni Nel cesto C'è sempre Qualcosa Interessante Di solito No Questa volta No Invece Ok Ah Ecco qua Che cos'è Scegli un oggetto Da usare Ah Cavolo Qua Eh È come la forza Non c'è un grimaldello Eh sì Vabbè Ma che cavolo Questo fa una cosa Ogni tanto Che sta roba Suo marito In vacanza Un idiota Che cos'è Quella foto Ma c'è lo zoom Sembra il disegno Di un bambino Eh quella Evelyn Non mi sa No C'è niente Lì c'è solo Quello che non si può Aprire Eh Vabbè lo sa Darsi D'altre vittime Eh direi di sì Qui c'era qualcosa Apri apri Eh che è Questo schifo Era un pescatore Forse Oddio Che cazzo è Che cazzo è Oddio Porca di quella E chi è mo' questo Porca di quella Porca Ricarica Eh che cazzo Mamma è Vaffanculo Ricarica Mannaggia A te però Ah Vaffanculo Eh che cazzo è mo' sta roba Oh porca Oh porca Minchia Ehi No Che ci sta Aca Che ci sta Eh Sì ma Ah ma c'avevo il pendolo Io Cavolo Questo era il pendolo Cavolo è vero Mannaggia Eh Questo è un quadro Famoso Mi sa Ma questo è lui Si apre Eh vabbè È col pendolo L'apro Sì Noi devo capire Dove stanno Sti chiavi Perché se no Un casino Qua ci può starsi Eh Qua si salva Sicuramente Questa è una stanza Per salvare Eh sapevo Grazie Ma Ma salvato Funzione di pistola Ah Mamma mia So stare un po' tranquillo Finalmente Allora E-mail Fatemi La cassa di scorte Moneta difesa Attacco Moneta istinta Moneta antica Allora La via cassetta La posso anche spostare Le monete pure Col fluido Chi Chimica Quello ci faccio Gli oggetti Un attimo Cosa è sta cosa Cara Cara Kourtney Quei bastardi Stanno cercando Ma forse Stanno Dove Da fuggisere A qui Dei trovare Le sculture A forma Di testa Di cane Non ho visto Ah Una Nella stanza Di distensione Seminterrato Vado a prendere La chiave E fuggire A questo Ok Quindi devo andare Nel seminterrato Che sarebbe Piano No Con la stanza Di genitori Postiglio Stanza Della nonna No Seminterrato Giù Eh Direi di sì Ma questa è un'altra Che devo forzare Eh Che cavolo Non ho una cavolo Di chiave Porca Ah Che guaio Però Che guaio Facciamo un po' Di Combination Plutochimico Ok Polvere da sparo Questa Questa posso Combinare Con No Ok Salviamo Perché Non si sa mai Ah Mamma mia Che pazienza Che ci vuole E direi che per oggi Può terminare Questo nostro Nuovo Episodio Su Resident Evil 7 Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Commentate E iscrivetevi al canale Un saluto Al vostro Luke Solo Alla prossima